bianca berlinguer ha annunciato martedì 18 giugno nel programma carta bianca su rai 3 la fine della collaborazione con mauro corona lei dice visto la sua scorrettezza e scontentezza nel partecipare a questo programma dice la contutrice facendo riferimento alle lamentele dello scrittore espresse in un'intervista al fatto quotidiano dice sono stata io a decidere di anticipare la fine della sua presenza alle nostre due ultime trasmissioni di quest'anno in una delle scorse puntate l'opinionista aveva bevuto una bottiglia di birra lasciando interdetta la conduttrice cos'è successo a parte la bevuta di birra in diretta che mauro corona intervistato dal fatto quotidiano aveva detto che lui mangia ha mangiato escrementi in passato per sopravvivere e che non si fa mettere i piedi in testa da bianca berlinguer perché lui vuole parlare di montagna invece lei vuole parlare sempre tutte le puntate di migranti lui dice basta migranti mi sono rotto le palle l'abbiamo già detto fateli entrare siete vergognosi però tutte le puntate parlare di migranti dice sono veramente stufo ci sono temi anche diversi da parlare come il suoi del sullo spopolamento delle montagne e via dicendo quindi licenziato in anticipo dalla conduttrice per essersi ribellato alla linea e alle linee guida comunque principalmente quelle direi tre del parlare dei migranti del problema degli sbarchi che non si fa mettere i migliori